il sole che sta per tramontare oltre alla città di Cagliari, il capoluogo della Sardegna che durante la seconda guerra mondiale andava protetto, difeso e con esso tutta la popolazione dagli attacchi dei nemici. E questo è uno dei tanti fortini della seconda guerra mondiale, un ingresso che viene regolarmente chiuso con dei lucchetti e poi una trincea suggestiva, profonda, anche abbastanza lunga, in questo caso oscura, all'interno della quale sono conservati dei segreti che a breve vi racconteremo. Andremo anche in questo tunnel della storia per meglio scoprire il passato della Sardegna, la nostra identità a tratti perduta ma non troppo.